Il Giro d'Italia 2024 farà tappa a Fano per la quarta volta dopo l'edizione del 1962 e del 1983. L'ultima volta era successo nel 2012, poi la terza città delle Marche era stata solamente sfiorata due volte nelle ultime edizioni. Contò la rovescia per l'arrivo dei campioni il 16 maggio per la dodicesima tappa. Martinsicuro Fano, un percorso di 183 chilometri che attraverserà la regione da sud a nord attirando in strada curiosi appassionati. Il Giro d'Italia torna a Fano, lo sapeva? Lo so, lo so, lo so, lo abbiamo già visto altre due volte. Una volta arrivato in Sassonia a Fano e una volta qui dove arrivano quest'anno. Sono un appassionato perciò lo seguivo. Lo sapeva? Sì. È una bella occasione per la sua città? Sì, certo. Lo vedrà? Andrà vicino? Sì, così come facevo da bambina, andavamo tutti sulla strada. Era un attimo, una sensazione fulminea, più che altro si vedeva una nuvola di colore, però era un'emozione grossa. Non è un evento scontato, seguo il ciclismo, mi piace e devo dire che è una grande soddisfazione per Fano. Sono eventi importantissimi, quindi va in risalto la città, no? Quindi spero che passi proprio nel cuore della città. Ancora top secret la traiettoria fanese della tappa. Questo ha fatto partire in città un toto tracciato per capire dove passerà il Giro d'Italia, anche se qualcuno a meno di tre mesi dall'arrivo non ne era ancora a conoscenza. Giro d'Italia nella sua città, lo sapeva? Ah no, non sapevo. A maggio arriverà il Giro d'Italia proprio qui a Fano, emozionata, andrà a vederlo? Ah sì, penso che sì. Quest'anno nella sua città torna il Giro d'Italia? Oh ilala, va bene, sono contento, ma a Fano passa? Sì. Non lo sapeva? No, non lo sapevo. Comunque il ciclismo a me è sempre piaciuto, purché non si tratta di calcio. Grazie a tutti.